Il dopo partita di Oltrepovo Ghera, Rapallo Bogliasco 2 a 1 con i rossoneri che tornano al successo dopo due pareggi con rimonta subita, due gol già nel primo tempo. Ai nostri microfoni quest'oggi l'allenatore rossonero Alexandro Dossena lo scorso anno sulla panchina del Rapallo Bogliasco, il mister dei Liguri Michele Coppola solo da 12 giorni sulla panchina al posto di mister Soda e poi i due protagonisti di giornata Matteo Colombi, decimo gol in campionato dopo soli 8 secondi e Lorenzo Lanzalaco alla sua seconda segnatura in questo campionato. Dopo partita di Oltrepovo Ghera, Rapallo Bogliasco con il mister dell'Oltrepovo Ghera quest'anno, Alexandro Dossena, lo scorso anno sulla panchina nella prima parte della stagione del Rapallo Bogliasco, mister una partita portata a casa con tantissimo piglio, tantissima rabbia perché le ultime due rimonte ancora andavano un attimino dimenticate, insomma non è stato facile perché il Rapallo ha tenuto la palla in mezzo al campo tantissime volte però forse aver sbloccato il punteggio subito, aver poi raddoppiato al termine del primo tempo deve aver dato il là a questa vittoria importante. Sì sì, sicuramente avevo chiesto ai ragazzi, i ragazzi stessi ce l'avevano dentro, la rabbia giusta che è stata canalizzata in maniera corretta e si è visto subito il primo gol di Colombi, secondo me la fotografia dello stato d'animo che avevamo a livello di squadra e d'atteggiamento volevamo riprenderci ciò che ci avevano tolto ovviamente per dei meriti nostri, i due pareggi nel finale contro la Novese e il Dertone. Hai temuto di pareggiare anche oggi dopo il gol del Rapallo oppure hai richiamato la squadra a tenere il risultato fino in fondo? No, no, temuto mai, io ero convinto che l'avremmo portato a casa nonostante c'è da riconoscere il valore, come avevo detto nel pre-partita come in dualità io penso che il Rapallo sia se non la migliore una delle migliori squadre del girone. Oggi hai riproposto in una difesa priva di Bernazzani, di Capitani Placido, Casarini esterno destro, insomma hai dovuto un po' scavare nel mucchio della Rosa per mettere in campo la formazione, insomma sei soddisfatto della prova di chi ha sostituito gli assenti perché poi mancava anche Dolcetti a centro campo. Sì, sì, sicuramente l'avevo detto nel pre-partita che non volevo che chi giocasse al posto di Placido, Dolcetti e Bernazzani li facesse rimpiangere e penso che oggi tutti, compresi quelli che hanno preso il loro posto, hanno dato tutto e hanno fatto una grande prova. Vorrei sottolineare un fatto credo importante, insomma la reazione che ha avuto in campo il giovane Lanzalaco perché sappiamo che in settimane è stato colpito dal lutto, insomma la mancanza della nonna alla quale lui era molto molto affezionato ha saltato anche un paio di allenamenti, oggi si è proposto molto bene, ha trovato anche il gol, insomma questo è segno anche di maturità da parte di questo ragazzo. Sì, sì, Lorenzo gli siamo tutti vicini, che abbia sigillato il secondo gol, che poi è stato il gol che c'è valsa la vittoria, è bello dal punto di vista emozionale penso che sia un qualcosa che tutti noi volevamo e da squadra anche questi fattori contano io ho visto che la squadra in questi giorni è stata molto vicina a Lorenzo e questo vuol dire che siamo un gruppo vero, una squadra vera. Stai già pensando alla Lavagnese o c'è tempo? No, no, sto già pensando alla Lavagnese, il primo risultato che ho guardato è stato quello della Lavagnese e penso che andremo ad affrontare un'altra squadra, secondo me, sulla carta davvero forte però io penso che l'Oltrepovo Ghera non deve temere nessuno, deve rispettare tutti ma deve fare le gare, affrontare le gare con l'atteggiamento giusto sapendo che sarà una gara dura ma tutte le partite di Serie D dimostrano che sono difficili se non vengono prese con l'atteggiamento giusto e il piglio giusto. Michele Coppola, allenatore del Rapallo Bogliasco Mister, quanto ha pagato secondo lei lo scotto la squadra di andare subito in svantaggio dopo 5-6 secondi? Insomma, non capita spesso nel calcio di subire un gol lampo in questo modo? No, a quanto pare il nostro porterino oggi entrando in campo, come avete visto voi non si era neanche accorto di dover giocare da quest'altra parte e niente, dopo 5 secondi credo sia il gol, penso, immagino più veloce della storia così la butto sullo scherzo per il fatto appunto che iniziare con l'handicap di un gol subito poi a quella maniera in questo momento qua chiaramente la squadra avrebbe potuto tra virgolette subire un bel colpo invece credo che ci sia stata una reazione vehemente da parte nostra che però non ci ha portato al pareggio e su un'altra azione dove potevamo rispingere la palla in maniera diversa rispetto a come abbiamo fatto siamo riusciti a prendere due gol senza un tiro in porta La sua squadra mister non ha mai comunque smesso di giocare anzi ha giocato più dell'avversario ha tenuto molto il pallone forse non ha tirato tantissime volte in porto insomma il gol probabilmente vostro è arrivato forse un po' tardi oppure lei pensava e credeva di poterla rimettere in sesto? Ma io sinceramente vedendo la reazione della mia squadra pensavo appunto di poterla rimettere in sesto perché a dire il vero appunto in campo fino a un certo punto ci siamo stati solamente noi pertanto è vero che probabilmente potevamo fare qualche tiro in più però sotto il piano dell'impegno ai ragazzi non posso assolutamente chiedere di più rispetto a quanto hanno fatto oggi è il dodicesimo giorno che stiamo insieme c'è stato purtroppo il fatto di aver giocato tre partite in questi dodici giorni abbiamo potuto diciamo così siamo stati poco insieme però ho visto una squadra in crescita ho visto una squadra nettamente migliore rispetto a mercoledì rispetto a domenica scorso pertanto questo mi lascia ben sperare Mister lei come lo stava accenando è arrivato da poco alla guida del Rapallo Bogliasco credo che a livello individuale questa possa essere considerata la squadra più forte del girone va però forse costruita come squadra ecco perché abbiamo visto tantissime individualità ma forse manca ancora l'insieme insomma credo che lei stia lavorando sul gruppo per cercare appunto di dare un volto un po' più preciso a questa squadra Sì sì sotto il piano del gioco sicuramente possiamo e dobbiamo necessariamente fare nettamente meglio rispetto ad oggi ma quello che mi preme dire è che questi ragazzi subire un gol dopo 5 secondi come ho detto in questo momento se c'è stato un cambio dell'allenatore chiaramente delle difficoltà c'erano prima che arrivassi io queste difficoltà a tratti purtroppo vengono fuori pertanto c'è tutto il tempo è vero per poter migliorare per fortuna questa settimana avremo una settimana tipo partiremo da martedì fino a sabato senza una partita ufficiale nel mezzo alla settimana pertanto mi lascia ben sperare per domenica prossima Rosa in mano capacità importante nella sua squadra secondo lei questo gruppo dove può arrivare una volta che appunto ha sistemato i problemi? In questo momento qua noi dobbiamo guardarci alle spalle dobbiamo cercare di non buttare all'aria tutto quello che 12 giorni con oggi ma poi ci ritroveremo fra 7 giorni a giocare contro il Vado in casa dobbiamo cercare di migliorare sotto l'aspetto del gioco come ho detto e non preoccuparci assolutamente della classifica in questo momento perché non è il momento di preoccuparsi di un qualche cosa che non sta andando bene è chiaro che i risultati ti aiutano a crescere forse un po' più velocemente sapete bene che in Serie D ci sono 4 giovani che devono giocare obbligatoriamente ed è l'unica categoria che purtroppo richiede questa amalgama questo insieme di persone giovani e vecchi dove i giovani li devi far giocare obbligatoriamente pertanto è un gruppo da far migliorare sotto tutti gli aspetti però mi lascia ben sperare il fatto appunto di aver visto oggi la squadra lavorare come intendo io sotto l'aspetto dell'impegno sotto l'aspetto del gioco come ho detto dobbiamo migliorare tanto Matteo Colombi attaccante dell'Oltrepovo Ghera un attaccante velocissimo Matteo potresti aver fatto il gol più veloce della storia insomma calcolati dopo il calcio d'avvio 8 secondi circa con quella scivolata di ribattuta il pallone dato in rete insomma un fulmine c'è il serino per tutti insomma forse anche per te raccontacelo Sì no ma infatti io neanche ci credevo quando ho visto la palla andare in porta niente io sono partito pressando il loro centrocampista e poi alla fine la palla è arrivata al portiere che ho visto un po' in difficoltà ci ho creduto fino alla fine poi con fortuna perché obiettivamente c'è stata tanta fortuna è entrata la palla in porta dopo 8 secondi al di là dei secondi al di là del gol credo che possa essere considerata anche la rete che forse ha dato la svolta al match insomma perché il rappallo poi è vero che ha giocato ha rincorso poi voi avete trovato anche il raddoppio insomma una rete che però ha aperto il varco a una squadra che arrivava da due pareggi molto strani insomma dove eravate avanti vi siete fatti rimontare forse era il gol che serviva per tenere la testa nel giusto controllo ma questo non lo so io posso dire certamente che la squadra si è vista e abbiamo dimostrato che comunque anche andando in difficoltà perché comunque il rappallo ha una classifica bugiarda perché è una di quelle squadre che comunque ti mette in difficoltà con il loro gioco, con la loro intensità insomma noi abbiamo dimostrato di essere squadra per l'ennesima volta e sono contento che abbiamo portato a casa questi tre punti che fanno morale e niente dai va bene così Doppia cifra, dieci gol, nove giornate disputate già due triplette alle spalle insomma questo Colombi dove vuole arrivare? Ma no, non ne ho di obiettivi io ho obiettivi di arrivare più in alto possibile con la squadra come ho già detto ma alla fine più in alto arrivo a livello personale meglio è ma non c'entra niente quello preferisco arrivare più in alto con la squadra più in alto possibile Lorenzo Lanzalaco lo scorso anno al Genoa quest'anno il primo vero campionato importante in Serie D con la maglia dell'Oltrepovo Ghera oggi è arrivato il tuo secondo gol in campionato un gol importante perché Lorenzo non è stata una settimana facile No, non è stata una settimana facile però sono tornato con la testa giusta anche grazie ai miei compagni che mi sono stati vicini e è andata bene oggi Insomma la dedica ci sta, la nonna che è lassù che oggi credo ti abbia guardato con più... Sì, sono sceso in campo per lei infatti sono molto contento di aver fatto gol Senti, un gol che non ha chiuso la partita però perché c'era tutto il secondo tempo da giocare era pallo, ottima squadra, vi ha messo in difficoltà poi ha segnato un gol insomma c'era ancora lo spettro della rimonte insomma che avete scacciato un secondo tempo che doveva tutto lottare tantissimo Sì, anche le partite precedenti due pareggi arrivati in extremis diciamo siamo scesi in campo comunque nel secondo tempo per cercare di aggredirli altri abbiamo avuto un po' di difficoltà perché comunque Bogliasco è una squadra che anche come palleggio e tutto ha dei grandi giocatori infatti sono andati un po' in difficoltà però poi siamo riusciti ad amministrare bene alla fine Secondo te oggi sono pesate un po' le assenze soprattutto dietro insomma senza capitano Di Placido da quelle parti però tutto sommato forse la difesa Sì, tutto sommato abbiamo lavorato bene attenti, tutti attenti siamo andati una mano con l'altro è andata bene, dai Senti, un altro po' Boghiera che al di là di tutto di aver mancato magari le due vittorie con Novese e Dertona resta imbattuto nove partite di campionato insomma anche un altro bello obiettivo che state portando avanti Sì, sì questa è anche una bella soddisfazione di essere ancora arrivati alla sconfitta e comunque dobbiamo continuare così a dare il massimo ogni partita e tutta la settimana Anche oggi ti abbiamo visto un po' il mister ti ha un po' spostato di ruolo insomma a centro campo sia a destra sia a sinistra insomma spesso attacchi di spazi ma il tuo ruolo ideale qual è? Eh, esterno diciamo perché ho più spazio per puntare l'uomo e ho più spazio per andare dentro calciare, creare occasioni però anche da mezz'ala mi addego a quello che mi dice il mister mi metto a disposizione Raccontiamo velocissimamente il gol anche perché è nato dalla tua azione insomma hai fatto una bella apertura su Cocco sei nato a chiudere in mezzo all'area Sì, sono nato in area perché mi aspettavo la ribattuta e per fortuna è arrivata lì e sono riuscito a fare gol Poi ti sei avventato sul pallone collo destro Sì, sì, sì sotto l'attraverso insomma, bel tempismo anche Sì, è arrivato un bel gol per fortuna dai Sì, è arrivato un bel gol per fortuna Grazie a tutti